Geofilosofia dell'Europa oggi, l'argomento al centro della lezione del filosofo, politico e opinionista Massimo Cacciari, docente ad eccezione al rettorato dell'Università d'Annunzio a Chieti. L'evento si inserisce nel ciclo di incontri e conferenze di orientamento promossi dal professor Oreste Tolone, docente di filosofia morale presso il Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico Quantitative, in collaborazione con il centro Europe Direct Chieti. Massimo Cacciari, noto al grande pubblico anche per il suo ruolo di opinionista e politico, è professore merito di filosofia presso l'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, nella quale ha ricoperto anche il ruolo di preside di facoltà e stato ordinario di estetica all'Istituto di Architettura di Venezia, che è fondatore di numerose riviste. Alla telecamera di Diego Martelli Cacciari anticipa parte della lezione rivolta agli studenti dell'Annunzio. Cercare di far comprendere quella che dovrebbe essere la missione dell'Europa, che dovrebbe essere costruire intese, costruire accordi, costruire pace, e quella invece che non è stata finora, chiaramente, un ruolo che non è riuscita assolutamente a svolgere, è una missione che non è riuscita a portare avanti con l'intelligenza la decisione necessaria, e quindi far comprendere le possibilità, ma anche far comprendere quante di queste possibilità sono fallite, perché se non si fa un discorso realistico su queste cose si canta per farsi coraggio. L'Europa che può, anzi poteva fare di più? Infinitamente di più, non in questo momento, ma prima. Era una guerra civile nata da otto anni, la crisi dei rapporti tra Russia e Ucraina era assolutamente nota, conosciuta da tutti gli analisti, e quindi si poteva lavorare per cercare di risolvere il conflitto ben prima che esplodesse in questi termini. E di Europa parla anche il rettore dell'Università d'Annunzio, Sergio Caputi. Fondamentalmente l'Europa, fino a qualche tempo fa, era semplicemente una condizione economica tra i paesi europei. Adesso mi sembra che, purtroppo per gravi e tristi motivi, ci si stia unificando un po' di più, ma quello che assolutamente si deve fare è convincere i nostri ragazzi ad andare all'estero e far venire da noi ragazzi che vengono da fuori da tutta Europa e anche dall'extra Europa.